Oggi ragazzi parliamo di dissipatori. Questo è un DX360 Max, lo vedete montato sulla testbench, ed è un dissipatore al liquido a 360 mm del brand ID Cooling. Magari non lo conoscete, ma fa dissipatori, ventole e quant'altro dal 2013. Ma che c'è da particolare sto dissipatore? Full black, pochi RGB, e abbiamo un radiatore da 38 mm invece che da 27 mm, quindi stile Arctic. Ottimo ventole, 5 anni di garanzia, costo abbastanza contenuto, insomma, maggiori dettagli a riguardo con test e unboxing, tutto quello che riguarda insomma sto bel dissipatorone, dopo la sigla. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su SD Hardware, sono Davide con un'introduzione. Oggi si torna a parlare dei dissipatori su sto canale, prima ve li portavo su un video a settimana, almeno un video a settimana, quindi sono quasi solo dissipatori. Oggi vi porto un sacco dei contenuti misti sull'hardware, quindi ecco che ogni tanto ve lo dovete prendere un bel dissipatore. Mi ha contattato ID Cooling e mi ha detto, oh vedo che ti occupi del sacco di dissipatori, vuoi testarne uno nostro e un nuovo? Ho detto, beh perché no. Ed è un po' com'è questo DX360 Max, di un brand che se non conoscete comunque fa ventole, dissipatori e quant'altro, tutto, diciamo in ottica, dissipazione del PC, da 10 anni, 11 anni, perché è dal 2013 che è nato appunto questo brand. Mi hanno mandato non solo il DX360 Max, ma anche le loro ventole TF12-025, che vedrete sicuramente dentro a qualche case, perché me le hanno mandate sia normali che reverse. E poi pasta termica, che poi la vedremo anche dentro alla confezione del dissipatore. La Frost X45. E poi anche un bel frame per le GM17, che purtroppo non ho utilizzato per fare i test, visto che per uniformare tutti quanti, insomma, io avevo già un mio frame e ho utilizzato quello solito, insomma. Ma detto questo, sto di dissipatore che c'è a te particolare, già ve l'ho detto nell'introduzione, sicuramente ha un prezzo interessante, ok, già ve lo spoilerò 110-115€ più o meno. Ok, in realtà è 89$ MSRP, poi se lo vedete su Amazon quella è la cifra. Ci sta anche a 89€ il 2,40€. Prezzi in linea col mercato, poi se andate a valutare i Thermaret ovviamente sembrano abbastanza alti. Purtroppo ormai ci siamo abituati ai prezzi di Thermaret, ma non sono lo standard. E gli standard sono questi. Tra le caratteristiche sicuramente schizza subito all'occhio il 38mm di radiatore come spessore. Radiatore in alluminio infatti non è 27 come al solito, ma ci abbiamo. Questa piccola chicca che di solito troviamo sugli Arctic, abbiamo già visto il Leak Max Flow con un radiatore sempre più spesso e anche lì comunque poi non avevamo notato miglioramenti rispetto ad altri dissipatori che avevo testato da 27mm. Vediamo un po' se oggi riusciamo ad andare meglio dei dissipatori con radiatore da 27mm. Vi porterò dei test su 14700K, vedete montato qui infatti sulla test bench. Tante chiacchieremo prima ad attaccare con l'unboxing, montaggio e poi i test. Ovviamente vi invito a iscrivervi al canale, bottoncione rosso e gratuito lo trovate qui sotto. Like, commentino e giù in descrizione canale Telegram delle offerte, chat di gruppo per farsi 4 chiacchiere, ci sto io e altri admin pronti a darvi una mano. E perché no, ci stanno pure tutti i link dei prodotti che mi hanno mandato se per caso siete interessati ad acquistarli insomma. I link stanno qui sotto in descrizione. Detto questo prendiamo e attacchiamo questa scatolotta che è ben fatta, sembra così una scatola di una scatola video ben curata. Difficilmente trovo, ecco, prodotti così economici che poi ci hanno una cura particolare. Mi viene in mente solo Thermacart effettivamente che ultimamente le ultime scatole sono fatte da Dio. L'aprite dovete fare anche un po' di fatica per tirare fuori lo scatolotto dentro che è nero e, aperto anche questo, trovate un bel gommone. Niente scatola d'erova, con dentro i vari componenti del dissipatore, vento, le scatole e quant'altro. Trovate a lato il manuale delle istruzioni, ben curato e soprattutto interessante, hanno fatto veramente in un'unica immagine gli step che dovete fare e seguire per montare il kit di montaggio del dissipatore. Mai vista sta cosa con 4 pagine hanno risorto e è problema. Sotto che c'è stanza, la prima cosa su cui ci cade subito l'occhio è sicuramente la scatola degli accessori grande e bianca che sta al centro. Presa aperta che ci sta, sicuramente in primis il tubetto di pasta termica, la Frost X45, tubetto che è in plastica e sembra identico speciale a quello della TF7 di Thermalite, quindi boh, stessa fabbrica a fianco, non ne ho idea. Che, vò detto, mi hanno anche mandato separatamente, purtroppo non la utilizzo che per standardizzare i miei test utilizzo sempre la solita Arctic MX-6, però ecco, viene venduta anche separatamente, comunque a buon prezzo. Poi tra gli accessori tre gancetti per i tubi, insomma per tenerli insieme, che è anche un'altra pratica che l'ha mandata a Thermalite perché se no prima si compravano a parte. Una prolunga per i cavi PWM perché ecco, le ventole si collegano tra loro e poi bisogna portare quella alla scheda madre, in base al verso ci sta questa prolunghetta. Un tubetto per stringere i dati, tubetto perché insomma è tipo una chiave, boh, inglese fatta a tubo. E vari kit di montaggio, tra cui AM5 e LGA1851 perché già da out of the box, quindi sulla scatola, sta scritto il nuovo socket di Intel. Non mancano poi viti e quant'altro, è per montare il radiatore sul case, però ecco, solite cose per montare un dissipatore al liquido. Passiamo alle ventole che stanno dentro a tre buste e le vedete, sono nere, senza RGB. La ventola è una DF12SK, è una ventola stile Noctua NF-12, quindi con centrale largo, pale piccoline e forma stile P12 di Arctic, ma in realtà è proprio colonnata. Dalla NF-12 di Noctua ed è full black con un centrale con un bel logo di decooling, tipo mezzo che cambia colore in base alla luce. 9 pale e per quanto riguarda il design è molto semplice, molto lineare. C'è da dire proprio una cosa, il trelaio ha una forma particolare vicino al cerchio, passatemi il termine proprio dove ci stanno le pale, tipo la scaletta, che serve un po' per far fluire meglio l'aria, che è una cosa che, boh, è la prima volta che vedo, sicuramente magari mi hai sfuggito con non ci hanno fatto marketing gli altri brand, però se vai a vedere l'overview di questo dissipatore sul sito di decooling fanno notare questa cosa. Abbiamo poi due cavi PWM, due cavi perché ovviamente c'è sia il maschio che femmina per collegare tra loro le ventole, cavetti molto corti, quindi non c'è poi il cavo in mezzo, per quello c'è la prelunghetta, che vi ho citato prima. Telaio fatto bene, una plastica comunque interessante, non ho visto, mi pare che ci stanno le stesse ventole, però sono le AF12, cioè le AF12 ESK, 125K, insomma quelle, che vengono vendute anche singolarmente, però quelle che hanno il centrale stretto e non sono da radiatore, diciamo, in questo caso invece sì. Hanno specifiche molto interessanti, visto che spingono fino a 2150 RPM, 85 CFM e 2.83 di pressione statica. 32.5 dB ha al massimo dei rumori, che insomma si fanno abbastanza sentire, io poi ho fatto comunque dei piccoli test per vedere come andavano, e diciamo che al 100% fanno un po' de baccano. Passando alla pompa, al waterblock e quant'altro, ve devo dire, allora il design della pompa è simpatico, abbiamo questa parte in top con delle linee trasparenti, che ovviamente sono RGB, l'unica parte con le lucine, per noi gamer, perché in realtà poi è tutto full black. Per quanto riguarda i materiali, full plastica ragazzi, mi sembrava che c'era del metallo lateralmente, ma in realtà è solo un finto, è una colorazione della plastica, basta che poggiate il dito e ve ne accorgete se è plastica o metallo. Lateralmente due viti, che servono poi per montarlo sulle staffe del kit di montaggio, sotto una bella, un bel backplate che va a contatto col processore, in coppe, con una pellicola, ovviamente davanti, che va tolta quando installate il dissipatore. Tubi, lateralmente che si muovono ad hoc, ben gestiti, tubi molto rigidi, ma non troppo, perché comunque il movimento viene bene. Sono quei tubi che semmiano rigidi, però in realtà nel movimento non danno fastidio e gli snodi non danno urto, cioè se si spostano, se vuoi spostare i tubi. Lunghi 465 mm loro, quindi anche una buona lunghezza, di solito comunque stiamo lì, 45 cm, un 360, quasi tutti ce l'hanno. E poi passiamo al radiatore che vi ho detto è molto particolare, abbiamo un radiatore da 38 mm di altezza. Per il resto in realtà è un solito radiatore in alluminio, in cui insomma, che c'è stata di poco e niente, con le lamelle e quant'altro. Però abbiamo 38 mm di altezza invece che i soliti, 27 mm. Teoricamente serve per far affreddare meglio, cioè avete più superficie dove il calore viene catturato dall'aria che passa dalle ventole e se lo porta via, teoricamente. In pratica, poi vediamo nei test, effettivamente contro i soliti 27 quanto va a cambiare. Specificate la pompa che me le so perse per strada, così ve le dico al volo. Pompa da 2900 rpm e il motore, la pompa come è fatto, è un motore a tre fasi con sei poli meccanici, che stanno lì, insomma sei motorini. Pompa di settima generazione di decooling, quindi sembra che è proprio di loro produzione. 25 dba per il rumore, in realtà è una di quelle pompe che manco se sente al 100%. Ci abbiamo soltanto un cavo a tre pin, ragazzi, da segnalare sta cosa. E detto questo, passiamo al montaggio, perché ovviamente una volta che piate il dissipatore voi dovete montare sul PC. E che dovete fare? Sicuramente tirare fuori tutto dalla scatola. Poggiare il radiatore su un tavolo dove andare a montare le ventole, ok? Io ho montato due viti, ma in realtà mettetele tutte e quattro. Io perché smonta, rimonta, smonta, rimonta. Me lo so un po' semplificato. Collegate i cavi fra le varie ventole e vi consiglio di mettere quella più vicina al buco del case dove mettete la prolunghetta. Ok, io l'ho messa su quella in top perché poi è lì che vado a collegare la MOBO con le ventole. E poi, sulla MOBO che bisogna fare, c'è un backplate, almeno nel mio caso, l'ho montato su LGA17. Il backplate con delle viti a dato, con doppio filetto, che servono appunto per collegare il backplate e tenerlo fermo. Montaggio a due mani, quindi non complesso. E poi ci avete le due staffe da mettere in base a come volete posizionare la pompa. Due viti a stringere, sei se volete contare anche le quattro per stringere le staffe. E state a posto. Pasta termica, io ho utilizzato, come ho detto, l'Arctic MX-6 perché nei test per standardizzare ho sempre usato quella. E poi, basta, che c'è da fare? Togliere l'adesivo, stringere le viti e ci avete il dissipatore montato. Passiamo ora ai test. Test fatti sulla mia solita test bench, dove testi di radiatori, quindi 14700K su Z790 Taiki Lite, RAM Kingston, Fury Reneid 6000 CL32. Pasta termica, già ve l'ho detto, l'MX-6. E ci abbiamo un frame. Non è il frame di cooling che mi hanno mandato gentilmente, è un bel campione che sicuramente testerò magari anche sui nuovi socket perché dubito che cambi rispetto all'1851. Ma ecco, utilizzo quello che già avevo io montato sul PC. E che dirvi? Test dove li vado a fare. Cinebench R23, due loop, due loop, quattro loop perché due sono a velocità a 100% con le ventole, pompa in realtà sempre al 100%, e poi ventole a 1000 RPM, quindi una situazione molto silenziosa per vedere come lavora sia la pompa nonché le ventole a bassi regimi. Due PL diversi perché, ecco, vado a testare una situazione un po' meno calda, ok, il 14700K scalda parecchio, quindi 181 Watt di PL e poi 253 Watt di PL, quindi bloccati a questi due consumi. E che dirvi, come si è comportato il dissipatore, si è comportato bene in tutti e quattro i test. Sicuramente funziona meglio con velocità al 100% visto che tirano parecchio le ventole, ma in realtà anche a 1000 RPM mi aggrada abbastanza. Quali altri dissipatori sfidanti e che risultati ha dato? Nei test e nei grafici vedete altri dissipatori, tra cui altri 360, 240, ma ci focalizziamo sul Vision 360 di Thermalite. Il Frozen Prism, anche se vi porto due risultati, quello con pompa al 100% e quello con pompa un po' rivista, perché arriva a 3400 RPM, fa un baccana troce, e quindi ecco la metto a una velocità normale che equipara un po' poi i risultati di quelli dissipatori agli altri, perché quello che costa meno ma in realtà è quello che va meglio. Poi Likmax Flow di Enermax, un altro dissipatore con radiatore a 38mm che non aveva proprio brillato nei risultati con questo radiatore, vediamo se questo va meglio. E poi anche uno degli ultimi che vi ho portato, il Light Loop di Be Quiet. Ma insomma, come va sto dissipatore ragazzi? Vi dico, le temperature sono tutti delta T. Delta T che sta per che cosa? Temperatura delta, quindi prendo la temperatura del processore e ci tolgo quella della stanza. Tutti i test più o meno stanno con 23, 24, 25, 26 gradi in stanza, quindi per equipararli vado a fare sto delta T. Comunque, PL 181 Watt, 100% di ventole, delta T di 41 gradi, come massimo invece 46. Gli altri dissipatori come sono andati? Più o meno tutti la stessa temperatura, un grado di più, un grado di meno. Sta di fatto che ecco il Likmax con la stessa caratteristica, cioè 38mm di radiatore, prende 2 gradi. In realtà poi la massima è la stessa. C'ha 2 gradi più alto, la VG. Da notare che comunque i dissipatori sono tutti abbastanza vicini, 1, 2, 3 gradi, soprattutto i 360, poi ovvio vediamo i 240 e i dissipatori ad aria, c'è un bel distacco. 181 Watt ma 1000 RPM, facciamo 46 gradi, quindi perdiamo 5 gradi di delta T e 50 di massima. Gli altri dissipatori tutti uguali, ma prende 3 gradi, il Likmax 49 gradi invece che 46. Light Loop è alla PAI, ok? Quindi sta come un dissipatore B-Wyatt che vi ricordo costa tipo 180 euro. Sì, full RGB, però ecco, diciamo che questo ve costa un po' di meno. Ma anche il Vision costa poco di più, c'è il display, Frozen Prism costa meno. Però ecco, comunque sono abbastanza allineati i 3, 4, 5 dissipatori da 360. 253 Watt di power limit con vento del 100%, 56 gradi e 61, ok? Di delta T come massima contro i 58 del Light Loop e i 60 dell'Ikmax. Quindi tra i 2 e i 4 gradi in più gli altri. A pari punti invece il Frozen Prism, ma poi diventano i 58 e passa nel momento in cui, 58 e 59, quando rallentate la pompa. Vision 360 anche lui si prende un paio di gradi, quindi sembra performare un paio di gradi meglio degli altri. Soprattutto in condizioni un po' più difficili. Vi ricordo, tra le specifiche come TDP davano 350 Watt su questo dissipatore. 253 Watt DPL e test a 1000 RPM, sempre i soliti 10 minuti, qui 63 gradi delta T, 69 di massima contro i 64 del Light Loop, 67 dell'Ikmax, di nuovo se rifila questi 4 gradi, e poi 65 del Vision e 62 del Frozen Prism, che poi se lo rallentate comunque arriva a 65 e passa. Questo per dirvi che insomma come dissipatore si comporta davvero bene, finalmente un dissipatore ecco sì di un paio di gradi, ma che con un 38 mm di radiatore va meglio, ok? Il Likmax andava peggio degli altri ed era l'unico 38 che avevo testato fino a quel momento, quindi forse non cambia nulla. In questo caso notiamo un vantaggio, e non è dato solo dalle ventole, perché comunque le ventole per 1000 RPM sì, fanno il loro lavoro, ma sicuramente grazie a sto radiatore che è un po' più alto, quindi c'ha modo di cacciare via l'aria calda sfruttando più superficie, ecco che lì viene sicuramente d'aiuto rallentare le ventole in un radiatore un po' più spesso. C'è sicuramente poi il rovescio della medaglia, ma insomma, ne parliamo meglio. Durante le conclusioni. Chiedetevi ragazzi, tante chiacchiere, test, unboxing, montaggio, abbiamo visto tutto questo dissipatore, il decooling sarà contenta. So che sono uno di pochi qui in Italia che si occupa di dissipatori, quindi mi fa piacere ogni tanto portare anche brand che sicuramente non conoscete. Dovete sapere comunque ecco il lavorone che c'è sta dietro a testare un dissipatore, metterli lì, fai, eccetera. Sicuramente poi il ritorno che c'hai è pochissimo, però è una passione che ho testarli e quant'altro, quindi è giusto ogni tanto anche portarvi prodotti che sicuramente non conoscete. E nelle conclusioni voglio dirvi, insomma, sto dissipatore vi va alle sti 115€ che costa? Vi devo dire, è un po' scettico sui 38mm perché fino a molto è stato tra l'Arctic e l'ICMAX non è che mai ero rimasto così colpito. Questo è il primo che comunque si battaglia, ecco, tipo quel Lightloop che è un signore dissipatore a 360, a fare un paio di gradi meglio, non che siano meglio le ventole, credo che comunque quel 38mm di radiatore lo aiutano un pochino insomma. C'è sicuramente il lato, il rovescio della medaglia, ovvero che questi dissipatori, costo radiatore a 38mm, danno dei grattacapi nel momento in cui andate a comprare il case. Case, mob e ram, in base a che tipo di case c'è sta, ma tutto parte dal case. Perché, essendo più alto e non essendo standard, porta grattacapi, ok? Anzi, qui abbiamo delle ventole da 25mm, quindi standard, ma pensate se c'erano anche le ventole tipo da 27. Iniziamo ad essere due millimetri qua, un centimetro in là, è un bel problemozzo. Però le performance ci sono, quindi nulla da dire. Le ventole sono silenziose, guarda, vi butto al volo un paio di test che ho fatto con i decibel così, messo con lo strumento a 50cm, l'ho fatto poco con gli altri dissipatori o perlomeno. L'ho fatto tutto al 100%, e gli ultimi due dissipatori, Lightloop e questo, l'ho anche testati a 1000 RPM. E comunque siamo abbastanza allineati, certo, al 100% delle ventole fanno un po' del baccano, ok? Sicuramente di più delle ventole a bordo del Lightloop che erano le LX, le Lightwings LX. Però nel complesso il dissipatore vale, ok? Quello che costa ci sta ed è uno dei migliori 360 che ci sta tra i miei test, quindi ottimo. Sicuramente, ecco, c'è sempre Thermalight che costa poco e t'ammazza il mercato. Perché se no, il prezzo di questo, se c'è stava solo lui, è un po' quando c'era solo Deepcool. Ti metterò un 360 a 130€, best buy. Oggi 130€ se meno tanti per colpa di Thermalight. È brutto da dire, ma purtroppo è una cosa che va valutata. La qualità costruttiva del dissipatore nel complesso ci sta, ventole ottime, sicuramente non proprio silenziose, ma ok. Quindi per i 115€, secondo me, ci siamo. Ci sono dissipatori migliori e costano meno? Purtroppo esistono e sono i Thermalight, come ho già citato. Quindi, valutate voi. Sicuramente è un dissipatore semplice di un brand che magari non conoscete, ma la qualità è interessante. Sarai curioso di provare un Arctic da 360 che al momento manca nei miei dissipatori. Magari cerco di reperlo più che altro per darmi un'idea di questi 38mm che non sono Arctic, come si piazzano rispetto ad Arctic. Abbiamo l'Enermax e, ecco, questo già da un 4 gradi circa. All'Enermax quanti gradi guadagna l'Arctic? Va meno? Va peggio? Da vedere. Magari in un prossimo contenuto, ecco. Chiedetevi ragazzi, vi ho fatto il sunto? Fatemi sapere nei commenti che ne pensate del suo dissipatore. Se conoscevate questo brand, giù in descrizione, canale Terrami di offerte, chat di gruppo e quant'altro. E niente, un saluto al vostro Davide dal piccolo Baby Yodo con la testa fluttuante. E ciò sapete al prossimo video. Ciao!